Perché tu non hai scritto in risposta. Che vuoi dire che mi fia sta bene? Non ti ha scritto. Non sta bene! Non sta bene! Non ti ha scritto a meno parola. È peggiorata, ha ricominciato a sputare come una dannata. Non ti ha scritto. Battata che me ne frega a voi, eh? Non ti ha scritto. A forza anteriore. Ma vi ha da sputare pure a me, guarda un po'. Non posso scrivere. È una cosa ben scritta. Questo nostro... Scriversi. Fortunata. Fortunata. Già, da Luca, rientri, stanza. Rientri, stanza. Fortunata!